Hello, here is Rangu. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry with over 50 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. 1. Coltello e forchetta di metallo. Il tocco finale sul tavolo da pranzo. Se usato saggiamente. Si sentirà i dettagli di tutto il tavolo è molto delicato. Un piatto di piatti cucinati in casa hanno anche qualche alto significato. Serie oro nero di coltelli e forchette. E piatto bistecca con l'uso. A casa può anche avere un senso di ristorante Michelin. L'uso di acciaio inossidabile spazzolato. Guardare più delicato e delicato. Superficie a specchio in acciaio inox. Facile da pulire. Coltelli. Forchette e cucchiai sono tutti disponibili. Oro rosa seguendo l'oro rustico ha portato un'ondata di ritmo caldo. Colore low key ma squisito. Fino a quando più attenzione. Un pasto semplice può essere girato in un blockbuster. Food grade 304 in acciaio inox. Aspetto integrato senza soluzione di continuità. Impostazione della tabella deve. Tutti i giorni snack di frutta. Una piccola forchetta può essere fatto. Tabella romanticismo attento. Non è i dettagli di questi luoghi. Spoon modello cavo. Aggiungere il divertimento del tè del pomeriggio. Diverse opzioni per soddisfare le vostre preferenze. Alti elementi d'oro fotogenici. Intelligentemente integrati nella vita del punto. Acciaio inossidabile 304. Materiale alimentare. Più sano. Dire addio alla difficoltà di bere petali di tè. Inalazione di tè. Bevande calde può anche bere con fiducia. Non si ammorbidirà come tubi di plastica. Ma anche più ecologico. Un multipurpose. È una cannuccia più cucchiaio di agitazione più cucchiaio del filtro. Testa del cucchiaio rimovibile. Più conveniente da pulire. 2. Piatto. La nuova serie Aurora. E il nome del piatto è dotato di un bordo d'oro lucido. L'atmosfera da pranzo più intenso. Orlo d'oro in porcellana bianca. Illumina sempre la tua tavola. Materiale in buone china. Durevole. La porcellana è delicata e lucente. E molto comoda da pulire. La bocca della ciotola è elettroplaccato bordo oro. Nessun metallo pesante. Mangiare più sicuro e protetto. Parte della forma ha una decorazione filettata. Semplice ma non monotona. La posa è migliore. Varie forme per soddisfare le esigenze della vita quotidiana. La gente non sarà impegnata a mangiare. Goffrato al cedoro mano tocco texture sconnessa e nascosto sconnessa modello di fiocco di neve sul piatto. Superficie del piatto tridimensionale squisita. La porcellana è delicata e calda. Liscia al tatto. Facile da pulire e non lascia tracce di macchie d'olio. Il colore del motivo incontra l'atmosfera natalizia. E può essere usato per cibo occidentale. Bistecca, pasta e dolci. Completamente integrato con l'atmosfera natalizia. 3. Stoccaggio. Rose gold storage. Uno sguardo al colore attratto. Posto sul tavolo da pranzo e ovunque può non solo organizzare il desktop. Ma anche contare uno scenario fuori dal tavolo da pranzo. Rispettoso dell'ambiente spruzzatura. Inoltre. È anche possibile memorizzare la frutta o. 4. Tazza. Il manico in oro opaco alla moda. Abilmente integrato nella tazza. Con lettere semplici. Un piccolo abbellimento può migliorare l'intero stile. Bianco e nero in due tonalità. Coperchio tascabile comodo antipolvere. In piccoli dettagli può anche essere sfaccettato. Viene fornito con un cucchiaio. Perfettamente integrato. Tazza in ceramica elettrolitica. 4 modelli. Piena di prudenza. Presa comoda. Delicata e liscia. Dimostra correttamente lo stile scandinavo. Luce bellezza di lusso di accenti d'oro. Migliorare la qualità complessiva. La stessa copertura tasca. Questo può anche essere caricato. If you are interested in our videos, remember to follow us. Ron Good. More than 4.500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you.